Buonasera a tutti, ben ritrovati nel nostro quartiere generale di Milano, la diretta di questo martedì 5 novembre. Buonasera a tutta la nostra chat. Sarò rapidissimo in questa presentazione perché sono già iniziate le risposte alla Camera dei Deputati rispetto all'audizione del Ministro Cancellieri. In questo momento sta proprio parlando il nostro onorevole sul serio Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Quindi andiamo immediatamente a Roma ad ascoltare le parole di Alfonso. Lei ha detto che chi l'accusa è bugiardo e ignorante. Le intercettazioni esistono e sicuramente quelle non dicono bugie. Ignoranti? C'è una cosa che certamente ignoriamo, il motivo per cui lei non abbia ancora deciso di dimettersi. Lei non deve dare solo le sue giustificazioni in quest'Aula. Lei oggi deve chiedere più semplicemente scusa a tutti gli italiani e con onore, questa volta sì, dimettersi.